Il Catania prova a ripartire. Il pareggio casalingo con il Cagliari ha lasciato qualche inevitabile scoria che la squadra di Maran cercherà di smaltire a partire da questo pomeriggio, quando è prevista a Torre del Grifo la ripresa degli allenamenti a porte chiuse. Nel Mirino c'è il Chievo e proprio a Verona i rossazzurri avranno la possibilità di avvicinare ulteriormente o addirittura superare il record di punti stagionale fissato a quota 48. A sette turni dal termine, con il sogno europeo ridimensionato e riposto almeno per il momento nel cassetto, rimane questo l'obiettivo primario degli Etnei. Dopo l'emergenza registrata nell'ultimo turno, Maran potrà intanto tirare un piccolo sospiro di sollievo. Barrientos è infatti pronto a riprendere il suo posto in avanti, attesi anche i rientri di Lodi, Almiron e Sciacca, le cui condizioni fisiche sono però da verificare.